Dobbiamo tirare fuori i soldi per mantenere i delinquenti, 80% della popolazione carceraria, a nostre spese. A casa loro, nelle patrie galere. Chiuderebbe se lei dipendesse da lei e indicasse un amministratore delegato, direttore generale della RAE, programmi come reality show, come, non so, i grandi fratelli, o amici, dove è esasperata un po' la competizione? Assolutamente no, perché sono programmi di successo. L'odio è se il mercato televisivo, ma ci mancherebbe altro che io debba decidere cosa dovrò vedere gli italiani. C'è il telecomando, se gli fa schifo il grande fratello. Ma cosa pensa della RAE? Penso della RAE che gli italiani non devono pagare il canone. Quindi liberalizzare al mercato e mantenerla statale. La RAE dovrebbe essere un servizio pubblico, ormai purtroppo non è così. Quindi non sul mercato, come dice qualcuno della sinistra, per esempio, per venderla a qualcuno. Ma sai, la sinistra è un po' ridicola, sono anni che parla del conflitto di interesse, è stato lì venti mesi, non è cambiata niente. Ma però dico, vogliono due partiti e perché non due televisioni o due giornali? Se dobbiamo semplificare e allora vediamo se va bene.